ah finalmente ci possiamo vedere questo film era da due settimane che ne parlavamo altro che ma ragazzi abbiamo tutto? va beh l'importante è che non manchi cibo ah le patatine bianche ci sono ah io e popocorn io quella a formaggio apposta allora manca soltanto il dvd dovevi portarlo tu escilo no io non ce l'ho il dvd e no lei lo doveva portare il dvd io dovevo portarlo ma dovevi portarlo tu no eravamo rimasti che lo portavi tu no no dovevi portarlo tu sono sicura no 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 guarda sono sicuro io lo dovevi portare tu il dvd ma che stai dicendo dovevi portarlo tu tu lo dovevi portare tu tu lo dovevi portare ragazzi 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 qual è il problema ci penso io lo prendo da internet ma ma come fai ci vogliono almeno cinque giorni prima che arrivi no non lo devo ordinare e guarda che streaming non si vede sicuro no nemmeno lasciate fare a me ci penso io allora era questo il film di don cruis si si proprio questo si questo qua si va bene qual è il problema ah hai visto ma che c'è voluto era così facile che c'è voluto dai grazie a tutti grazie a tutti